Questa mattina il Consiglio Comunale di Montesant'Angelo ha approvato all'unanimità la mozione sulla localizzazione del deposito di stoccaggio delle scorie nucleari nel territorio pugliese. Così come fatto dalla Regione Puglia e quindi dal Consiglio regionale pugliese, anche da Montesant'Angelo riteniamo che questa sia una scelta sbagliata da parte degli organi centrali. Il nostro territorio ha una vocazione turistica straordinaria ed è su questo che dobbiamo puntare. Riteniamo che il deposito delle aree di stoccaggio per le scorie nucleari possa rappresentare una negatività per l'intero territorio pugliese ed è per questo che con la mozione odierna abbiamo voluto manifestare tutto il nostro supporto alla Regione Puglia affinché giunca forte agli organi centrali il nostro no al deposito delle aree di stoccaggio per le scorie nucleari. Grazie Grazie Grazie